eccoci qua ragazzi per l'ultimo video DIY di Tiger oggi andremo a ricreare questo pesce nel fondale marino allora questa è il cartoncino e questi sono i colori degli sticker più i classici questi qui scusate queste perline appunto per decorare tutta l'immagine io vado appunto come al solito a ricrearlo e ve lo faccio vedere poi dopo finito a dopo ecco qua ragazzi questo è finito anche lui era l'ultimo anche perché ci vuole parecchio tempo e molta pazienza comunque è uscito carino anche lui sono meravigliosi quindi io ve li consiglio di nuovo da Tiger 2 euro se volete andarvi a prendere correte perché dal mio Tiger ce n'erano tanti ma magari vanno a ruba ok alla prossima ciao 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 ciao